Una nota positiva riguardo la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, commissariata da Banca d'Italia lo scorso anno, per gravi irregolarità procedurali. Si è infatti conclusa positivamente l'avvertenza dei lavoratori della BCC dopo l'apertura della procedura di consultazione sindacale avvenuta dall'azienda nella quale erano stati inizialmente dichiarati ben 26 esuberi per una richiesta di riduzione del costo del personale di oltre 1 milione e 600 mila euro. L'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri, fa sapere il sindacato autonomo Fabi, dopo una lunga e complessa trattativa che da un certo punto in avanti ha visto le diverse sigle sindacali procedere su tavoli separati. La Fabi, sigla maggiormente rappresentativa nel settore e all'interno dell'azienda di credito, ha negoziato e sottoscritto al primo tavolo l'accordo in cui sono state raccolte quasi totalmente le istanze dei lavoratori consultati attraverso le assemblee per tutta la durata della trattativa. L'accordo ha evitato misure drastiche come il taglio delle ritribuzioni ed altri interventi strutturali attraverso il ricorso al fondo di solidarietà sia per l'esodo anticipato e incentivato dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici che per l'attuazione di formule di solidarietà difensiva, quale una riduzione dell'orario di lavoro parametrato alle ritribuzioni lorde dei singoli dipendenti e quindi improntato ad un principio di equità sociale. Nell'accordo sono previste altresì una serie di garanzie e verifiche che potrebbero consentire di limitare a 24 mesi anziché 36 l'applicazione degli strumenti congiunturali di riduzione dei costi. Adesso toccherà al nuovo management della banca commissariata il fondamentale compito di riportare la prestigiosa realtà del regino sul binario giusto e alla vigilanza di realizzare le condizioni affinché la BCC possa tornare ad essere un centro di riferimento per lo sviluppo socio-economico del territorio, del regino e della piana di Gioia Tauro.